Vigor Gela e Niscemi sono passate al terzo turno di Coppa Italia a promozione. La Vigor Gela ha perso 3-1 con il Serra di Falco, ma in virtù del 4-1 dell'andata la squadra gelese ha passato il turno. Nell'altra gara il Niscemi ha avuto ragione nel Pro Ragusa. Ha deciso una rete messa a segno da Bojang. Per il Niscemi, ennesima vittoria di questa stagione fin qui magica per i suoi colori dal momento che i Niscemi si sono imbattuti sia in campionato che in Coppa Italia.